Passata all'onda emotiva dettata dallo sdegno e dalla rabbia per le richieste della Procura federale nei riguardi del Teramo e del suo presidente Luciano Campitelli, la città di Teramo aspetta adesso la sentenza della Corte di Giustizia federale. Aspetta e spera ovviamente che la posizione della magistratura giudicante sia diversa da quella inquirente, come si direbbe nella giudiziaria vera. Il timore però è che tutta questa differenza tra le due parti non ci sia, anche perché Palazzi e i suoi uomini hanno sparato alto proprio per prendere qualcosa di concreto non avendo nulla in mano. Se si fossero tenuti bassi nelle loro richieste sicuramente avrebbero raccolto poco o nulla. Nella sala convegni dell'hotel comunque ancora rimbombano le parole con le quali l'avvocato Eduardo Chiacchio ha iniziato la sua ringa difensiva. Luciano Campitelli a Teramo è un eroe ed è una persona seria e stimata da tutti. L'incipit era quanto mai doveroso visto che la Corte federale magari non sa e non conosce il presidente del Teramo. Da lì bisogna partire da quelle affermazioni per capire di chi si sta parlando. Anche Ninni Corda sarà una brava persona, non lo conosciamo ma possiamo darlo per scontato, ma il suo curriculum vite, per non parlare di fedina penale sportiva non è proprio così immacolato. Indagato, squalificato, reo confesso, condannato e adesso anche recidivo nelle sue azioni. Per la procura federale però il tecnico sardo ha più credibilità di Luciano Campitelli che con le procure ordinarie e sportive fino ad oggi non ha mai avuto a che fare. Cosa ci si deve aspettare adesso dalla sentenza? Difficile dirlo perché quello che passa nella testa della Corte non è dato saperlo. Se giustizia c'è però, al Teramo toccherebbe un punto di penalizzazione per l'opera di Marcello Di Giuseppe e basta. Ma come ben sappiamo la giustizia non è di questo mondo e allora il ferragosto dei tifosi del Teramo sarà di attesa, palpitante e ansiosa. Non potrebbe essere altrimenti la Serie B ma soprattutto il futuro del calcio terramano sono appesi a un filo sottilissimo. Grazie. Grazie.